acquario momento molto interessante e soprattutto molto gratificante per voi dal punto di vista professionale lavorativo perché sembra che potreste in questo periodo raggiungere il vostro obiettivo o comunque uno dei vostri obiettivi qualcosa che per voi era molto importante e che potrebbe esservi anche riconosciuto dagli altri qualcosa per cui qualcuno potrebbe farvi complimenti in realtà il consiglio è semplicemente quello di continuare ad avere fiducia nei vostri sogni ragazzi perché innanzitutto siete sulla strada giusta e inoltre potrebbero arrivarvi proprio adesso nuove idee nuove ispirazioni idee brillanti anche potrebbe essere tra l'altro il momento in cui cogliete una verità cogliete riuscite a vedere la verità in una situazione ed ecco che questo potrebbe portarvi proprio ad un inizio impegnativo ma molto bello grazie a tutti